of love ed è tratto dal suo ultimo disco reale, live, fatto con una band strepitosa che si chiama Band of Chipsies, è un disco stupendo, veramente eccezionale, lui cambia band improvvisamente, lascia la experience e forma questa band con due afroamericani come lui, tra cui alla batteria appunto c'è questo Buddy Miles che è quello che ha scritto questo brano. Niente, è bellissimo. A presto 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 A presto